novità in casa arca per la stagione 2018 un motoron compatto sotto i 6 metri e 50 all'europa 6 e 40 glm montato su meccanica ducato 150 cavalli appoggia su un telaio alco con doppio pavimento quindi importantissimo per le vostre vacanze invernali il veicolo si presenta con una dinetta delle con sedili girevoli un piano cottura a tre fuochi un frigo slim 145 litri e il bagno con la doccia separata il prezzo di listino di questo veicolo è 86.900 euro ma potrà essere vostro a 78.900 euro comprensivo della radio touchscreen con comandi al volante il climatizzatore motore il cruise control la retrocamera il riscaldamento e il boiler per l'acqua calda a gasolio e il garage posteriore per stivare la vostra motocicletta venite a trovarci